Ogni venerdì alle 18.30 fino al 23 luglio, Musica Atmosfere in piazzetta San Nicolò a Padova. Concerti di musica classica di ingresso gratuito patrocinati da Consiglio di Quartiere 1 Padova Centro e Assessorato alla Cultura del Comune di Padova. Allestimenti Tech Plus e Studio 5. MusicaAtmosfere.it Media Partner Radio Company